La mia vita è sempre stata come una domanda senza risposta, una serie infinita di giorni e di notti passati ad aspettare non so bene cosa. Rita noi siamo legati, ovunque vada sento che tu e i bambini siete sempre con me, voi mi rendete vivo, voglio andare ancora a mangiare una banana split, a ripiantare l'albero di limoni che è subito morto, non voglio più perdermi la sera della pizza, per questo so che voglio sposarti, perché una cosa semplice come la sera della pizza illumina la mia settimana, ma non senza i miei ragazzi, Cody, Rastul, voi siete la mia famiglia, io voglio stare con voi per sempre, vi prego dite di sì.